Si è molto forti e facile essere dei leoni in conferenza stampa, poi si arriva qui e si diventa improvvisamente dei gattini d'appartamento. Perché su questo tema degli extra profitti avete fatto una figura barbina, avete dimostrato che abbassare la testa è forse uno dei principi su cui pensate di mantenere la vostra poltrona, però questa era l'occasione ed era lo spirito del Movimento 5 Stelle quando ha fatto questa proposta di affermare che quando gli interessi salgono a questi livelli non si chiamano più interessi, si chiama usura. Strumentalizzare una tragedia come quella di Mestre per fare una battaglia sull'elettrico è una roba da schifo con le persone che stanno lottando tra la vita e la morte. Quando abbiamo sentito la conferenza stampa del Ministro Salvini, una versione pappette più sobria ed elegante, diciamo, in giacca e cravatta, ci ha detto tra le altre cose che non stiamo parlando di qualche manciata di milioni. E ha ragione, non stiamo parlando di qualche manciata di milioni. Dopo le modifiche stiamo parlando di una manciata di milioni. Il succo è che a chi veramente sta vivendo le difficoltà del rincaro delle rate di mutui non andrà assolutamente nulla. La Presidente del Consiglio Meloni è andata davanti alla televisione a dichiarare che era stata una sua iniziativa. Io mi chiedo come mai non ci sia un giornalista in Italia che si sia alzato a chiederle ma se per otto volte l'avete bocciata in Parlamento, con che coraggio, con che dignità sta dichiarando che è stata una sua iniziativa. Le banche sono state molto veloci ad aumentare i costi, ma non sono state altrettanto veloci ad aumentare gli interessi. E stanno macinando miliardi e miliardi di euro, che stanno pagando gli italiani. Non sono parole mie, sono parole del Ministro Salvini. Che se ha una dignità vada nuovamente di fronte alle telecamere e si scusi con gli italiani per non essere riuscito ancora una volta a mantenere una sola promessa. Io sono contento che ci siano i ragazzi qui oggi ad assistere e anche ci sono tanti che ci seguono. E quindi proprio a quei ragazzi io vorrei dire, guardate che questo governo è pericoloso, ma non tanto per noi, ma per le future generazioni, perché stanno precarizzando il mondo del lavoro, stanno affamando il ceto medio, ormai annullandolo e non stanno facendo nulla per sostenere i cittadini che oggi sono in difficoltà. Vi dovreste solo vergognare e chiedere scusi. Di fatto non cambia la situazione, in quanto è stato fatto un errore dal governo e quindi è il governo che dovrà andare a spiegare ai tassisti che si devono andare a comprare la macchina e non se la possono prendere a leasing. Questa è la visione di Paese che avete. Classista e crudele, con i più deboli e invece scendiletto con i potenti. Avete una percezione distorta della realtà. In che mondo vivete? Anche se del resto, se avete un Ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi, forse pensate che queste persone vivano in una reggia. E allora voglio farvi una domanda, una domanda che si chiedono tutti i cittadini. Ma com'è che quando chiedete i soldi alle banche lo fate su base volontaria e quando invece li chiedete ai cittadini dovete prenderli per forza e diventa obbligatorio? Questa è una domanda che io mi faccio da cittadina. Tratta dell'ennesimo decreto omnibus che intende affrontare tutto senza risolvere nulla. agricoltura, trasporti, telecomunicazioni, extra profitti, rinnovabili, granchio blu. Insomma, dentro ci avete messo di tutto. Non si riesce davvero a capire neanche cosa abbiano in comune alcuni dei citati temi con gli asset nazionali. Insomma, un provvedimento inefficace per le sfide che il Paese è chiamato ad affrontare. Per tutti questi motivi non posso che dichiarare il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Un'ultima notizia. 8 ottobre, domenica. Firma Day sul salario minimo. Voi sapete che questa è una grande battaglia del Movimento. Stiamo, tra l'altro, voglio anche in questo caso sottolineare che sono uscite le sentenze della Cassazione che ci danno ragione. La contrattazione collettiva, dice la Corte di Cassazione, non è sufficiente a garantire un salario minimo adeguato e rispettoso dell'articolo 36 della Costituzione. Ci abbiamo ragione noi. E quindi quando Rizzetto, il Presidente della Commissione di Lavoro, per nome di Presidente della Commissione di Lavoro, a nome di Fratelli d'Italia, appena dichiarato che loro non sono favorevoli al salario minimo garantito, io dico che vanno contro la Costituzione e adesso anche contro le sentenze della giurisprudenza di Cassazione. C'è un motivo in più per combattere questa battaglia, ma il motivo in più è dato anche dalle firme che stiamo raccogliendo, dalle firme che voi dovete contribuire a rilasciare, a sottoscrivere, ai nostri banchetti. Io per incitarvi sarò con voi. Sarò domenica, passerò prima a Foggia dove si vota, sapete che siamo in piena campagna elettorale, poi passerò a Napoli nel pomeriggio e la sera passerò a Roma. Proprio verrò ai banchetti per star vicino ai nostri amici, alle nostre amiche che sono predisposti su base volontaria per accogliere queste firme. Tantissime firme le dobbiamo far arrivare sul tavolo di rezzetto dei parlamentari di maggioranza che non vogliono ascoltare assolutamente il dolce suono della parola salario minimo garantito. Un abbraccio a tutti. Grazie. 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 Grazie.